Oggi sono qui per presentarvi un nuovo corso in collaborazione con la tecnica della scuola, un corso pratico sui disturbi specifici dell'apprendimento. Perché sottolineo pratico? Perché darò per scontato che chi si iscriverà a questo corso sappia già che cosa sono i disturbi dell'apprendimento, quali sono, come funzionano e così via. All'interno di questo corso infatti vedremo solo ed esclusivamente strategie tecniche e modalità didattiche da utilizzare quando in classe ho uno o più alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. Vedremo cosa fare anche in base alla fascia d'età. Infatti il corso è orientato a docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Vedremo alcune tecniche trasversali, alcune modalità di gestione trasversale che sono benvenuti per tutte le fasce e faremo gli approfondimenti specifici tanto per quelli delle primarie quanto per quelli delle secondarie. Ciao, ci vediamo quindi all'interno del corso sui DSA.